Le migliori viste su Manhattan si trovano a Brooklyn. Ora seguitemi per scoprire l'edificio Oro che sta nel suo centro. Non solo le sue viste panoramiche meravigliose, ma anche gli ottimi servizi di cui dispone, come per esempio palestra o cinema. E il tutto nello stesso palazzo. Oro è un palazzo di 40 piani che si trova nei pressi del ponte di Manhattan e Brooklyn e ben collegato con tutte le principali linee della metropolitana. Offre una vista panoramica su Manhattan e comfort senza uguali, come portieri 24 ore, piscina, palestra, campi da squash e da basket, sale di proiezione, zona bar con tavoli di bigliatti, tutto quello di cui avete bisogno senza mai uscire di casa. Platinum vi offre la possibilità di acquistare uno dei propri appartamenti spaziosi di 71 metri quadrati con pavimenti in legno, soffitti alti, grandi finestre e rifiniture eleganti. L'appartamento dispone di una cucina splendida, estetica moderna, con ripiani in granito e elettrodomestici in acciaio inox, completamente comunicante alla sala principale, dove si possono ammirare gli incredibili panorami e tramonti sulla città. L'appartamento ha un bagno e una camera matrimoniale con cabina armadio. Il prezzo di vendita è 760 mila dollari, poco più di 570 mila euro, con una riduzione delle tasse fino al 2015. Platinum seleziona per voi le migliori opportunità di investimento, per questo vi consiglia l'acquisto di case con sgravi fiscali. Investite il vostro denaro in modo sicuro. Con Platinum. Grazie. Grazie a tutti.